Se Dio ci ha donato l'esistenza, significa che è davvero innamorato di ognuno di noi. Al nostro posto avrebbe potuto creare infinite altre persone, invece ha scelto proprio noi. Pensiamo troppo poco a questo rapporto divino, e più cerchiamo Dio, più ci accorgiamo che è Lui a cercarci da innamorati. Riflettiamo bene, c'è da gioire immensamente quando siamo consapevoli che l'amore onnipotente ci corteggia, ammira ogni più piccola nostra buona azione, contempla il nostro tentativo di corrispondere al suo amore, attende con gioia incomparabile ogni palpito del nostro cuore. Grazie per la visione!